Onorevoli deputati, rafforzare l'ideale europeista di Schumann che ho citato deve essere il nostro lavoro in defesso, però non nascondiamoci dalle incoerenze, dalle imperfezioni. Noi possiamo essere imperfetti, è vero, ma la nostra unione è di una bellezza unica e unica per bellezza. È un'unione che ci permette di rafforzare le nostre libertà individuali grazie alla forza della nostra comunità. È un'unione plasmata dalla nostra storia e valori comuni, ma anche dalle nostre diverse culture e prospettive. È un'unione dotata di un'anima. Cercare di trovare le parole per descrivere l'essenza di questa sensazione non è certo facile. Ma è più semplice quando le si prendono in prestito da qualcuno che vi fornisce un'ispirazione. Ecco perché ho invitato un ospite d'onore oggi con noi. La conoscerete, molti di voi la conosceranno, si tratta della medaglia d'oro italiana che ha veramente catturato la mia simpatia e il mio cuore questo è stato. Ma forse non saprete che ad aprile, solo ad aprile, era stato detto che era in pericolo di vita. Fu sottoposta a un intervento chirurgico, lottò e guarì. E solo 119 giorni dopo essere dimessa, vinse una medaglia d'oro Panorim, Paralimpica. Onorevoli deputati, prego, diamo tutti insieme il benvenuto a Bebevio. Grazie. 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 Bebe ha superato così tanto nonostante la sua giovane età. La sua storia è veramente un contrasto delle avversità. Ce l'ha fatto grazie al talento, alla tenacia. È un atteggiamento sempre positivo. È proprio l'immagine della generazione. È una leader, una paladina dei valori in cui crede. È riuscita a raggiungere tutti questi risultati applicando il suo credo. Se sembra impossibile, allora può essere fatto. E questo era proprio lo spirito dei fondatori e le fondatrici dell'Europa che abbiamo oggi, lo spirito dell'Europa della prossima generazione. Prendiamo Bebe come un esempio, un'ispirazione e lasciamoci ispirare anche da tutti i giovani che hanno cambiato la nostra percezione del possibile, che ci dimostrano che si può essere quello che si vuole essere, che si può raggiungere tutto quello in cui si crede. Onorevoli deputati, questa è l'anima dell'Europa, questo è il futuro dell'Europa. Rendiamola più forte insieme. Viva l'Europa.